buongiorno dall'automobile ci stiamo dirigendo all'interno di vlor del territorio perché molti di voi mi hanno sempre detto ma perché non va all'interno e io adesso ci vado siamo sul passo a canino ebbene sì ti sto portando a una festa all'interno di valona sai chi è adesso arrivo dimmi tu chi è adesso ti porto a vedere proprio questa festa tradizionale questa è la vera albania adesso vediamo un attimino un po di balli tradizionali non so cosa si mangerà cosa si berrà ma ti ho portato qua non c'è solo il mare non c'è solo le bellezze legate al mare ma guarda dove sono aspetta eh guarda la festa questo è un paesaggio incredibile si vede la targa lontano comunque sono a terbaci non vediamo l'ora di sentirli quindi salutiamo e ci sono anche buri e grua marito e moglie posso indicare anche le moglie e lezze e lezze saluta dell'italia dopo i faccio vedere come ballano come cantano e bellissimi e petro a e a e a a a a a a a Grazie a tutti 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 Parto da qui per concludere il video Stanno preparando i piatti con il diat cacci cavallo Con la capra Con l'agnello e tutto E ora mentre vado al tavolo Ti faccio vedere quante persone ci sono Io ringrazio la persona Che mi ha invitato per vedere questa festa meravigliosa E ora ti faccio vedere Un po' tutte le persone che ci sono Sono veramente tutto il paese E' bellissima l'atmosfera Grazie a tutti Non solo il tavolino Bene, quindi orgoglioso e felice Di aver assistito a una festa così E tra l'altro sta arrivando al tavolo Io non so neanche se è offerto o meno a tutti quanti Lo scoprirò solo dopo Lo scoprirò solo dopo Quello che voglio dirvi L'Albania è anche questa Quando venite in Albania Avete l'obbligo di vedere qualcosa del genere Ci vediamo nei prossimi video Grazie